Comunque bene Tessitori che ora si mette a lavorare spalle a canestra, arriva sotto, appoggio morbido per la partita, è più facile vedere doppiaggio, chiamiamolo così, intanto Antoluti arriva nel cuore dell'area per Tessitori. A rimorchio, Pampa cerca Tessitori, invece si libera Antoluti, dà tre punti, Capitano! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!